Ciao a tutti, Chiara Faenza, responsabile sostenibilità e innovazione valori di Coop Italia. L'impegno etico di Coop è uno dei nostri valori fondanti e la massima espressione dei nostri valori è appunto il nostro prodotto a marchio. In tempi recentissimi, proprio l'altro giorno, abbiamo lanciato un'importante campagna sull'etica e sulla legalità.